Nuda in strada tira un pugno a un brigadiere dell'arma intervenuto per calmarla. Denunciata dai carabinieri di Stresa, una donna ucraina che a luna di notte del 14 luglio ha dato in escandescenza in strada davanti all'hotel Villa Carlotta di Belgirate. Ricevuta una segnalazione dalla centrale operativa, la pattuglia è arrivata sul posto. La donna era completamente priva di vestiti e cercava di fermare le auto che passavano sulla statale. I clienti dell'albergo, svediati dalle urla, assistevano alla scena dalle finestre. Alla vista dei militari, la donna ha tirato un pugno in volto al carabiniere. Poi, mentre con il collega cercava di ammanettarlo, gli ha strappato la camicia e lo ha aggraffiato. Alla fine è stata portata in caserma per essere identificata. Si tratta di una 45enne residente a Novara, assistente domiciliare. Prima di scendere in strada, aveva danneggiato la stanza dell'hotel nel quale alloggiava. Su disposizione del PM, è stata denunciata a piede libero per resistenza a oltraggia pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni aggravate, disturbo del riposo delle persone. Il brigadiere è stato medicato. Per lui, lievi lesioni.